ecco qui queste sono le condizioni in condizioni in cui viene lasciato un bosco cioè guardate un pochino cosa ci si deve ritrovare c'è di tutto che dentro c'è di tutto veleni c'è tutto c'è tutto qui dentro l'acqua dentro aperta a cielo aperto completamente come potete vedere questa acqua e questa è una buca a cielo aperto e non è finito la miele per terra plastica abbandonata questo è il bosco mettiamo nel chianticlassico e non chissà dove chianticlassico ecco qua sento un ex pollaio ma come vedo guardate qui guardate qui ecco qua non mi sorprenderei di trovare bocconi avvelenati ma insomma vabbè l'abbandono totale plastica da tutte le cose ecco qua ecco qua ecco qua godiamo tutti di questo scempio ecco qua vetro resina c'è di tutto ecco qua vedo probabilmente la usavano come conciaia guarda qua vetri qui a 50 metri ci sono le case del paese eh questa buca è pericolosissima cioè assurdo veramente guardate qui l'abbandono totale l'abbandono totale guarda il seggio le sparse da tutte le parti cioè mi metto a ridere ma avrei voglia di piangere ecco qua vedo qui c'è anche materiale che andrebbe smaltito in maniera differente eh guarda qui plastica 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 ecco qua che vi devo dire cioè cos'altro c'è da aggiungere a tutto questo cos'altro c'è da aggiungere alle qui do il o è